giustificare tutti gli sforzi fatti dal presidente Moratti per prendere Ronaldo. Che il campione brasiliano fosse un fenomeno non lo scopriamo certo adesso, ma ieri sera Ronaldo ha stupito tutti, tifosi avversari compresi. La sua prima tripletta italiana è un concentrato di astuzia, ingegno, bravura e grande capacità tecnica. I suoi piedi in campo sembrano danzare intorno al pallone, una danza che disorienta gli avversari e li rende completamente impotenti di fronte alle giocate del fenomeno brasiliano. I giocatori del Piacenza ieri sera se ne sono accorti. Il ragione originale, ma il paragone con un altro grande del calcio, Pelé, è sempre più calzante. Questo gol di Pelé si avvicina in maniera impressionante all'ultimo segnato da Ronaldo a Piacenza. Mettere i due fuori classe a confronto adesso non è più un azzardo.